Giancarlo Rinaldi è autore di questo nuovo volume per i tipi di carrocce editori nella collana studie superiori archeologia del nuovo testamento un'introduzione ricordiamo il professor Rinaldi ha insegnato storia romana e storia del cristianesimo nell'università federico secondo e orientale di napoli è un punto di riferimento per chiunque si occupa di queste materie nel recensire questo libro voglio dire semplicemente che come specifica il professor Rinaldi in un passaggio di questo testo l'archeologia non deve provare le verità bibliche però lo studio l'analisi la contestualizzazione anche sociale di alcuni fenomeni di alcuni fatti che riguardano i racconti della bibbia aiuta anche un credente a cogliere il valore non solo storico ma anche spirituale di queste vicende quindi questa è una guida è uno di quei libri che chi si occupa di queste materie non può non avere non può non leggere vi ricordo che per i tipi di carrocce archeologia del nuovo testamento un'introduzione a cura del professor Rinaldi proprio in questo caso come sapete io concludo leggere per credere a cura del professor Rinaldi